Gira o a sinistra o a destra, sei tu che poi ti devi portare in quella corsia. Entri dentro in centro, ti fai tutto il centro, qua hai da stare molto attenti. Trisce pedonali? Ce ne sono? Vai piano. Quando tu esci da qua, non è necessario che non ci sia nessuna macchina. L'importante è che non venga nessuno dalla tua direzione, perché tu ti metti così. Capito? Partiamo? Boh, andiamo. Sharon, aspetta, ma che fumera di bianco che fa, puretta. Ce l'ha la freccia a fumera. Fermati, fermati. Sembra che mi sente. Freccia. Ecco qua c'è questo incrocio, quindi brava, rallenta. Perfetto. Allora... Ho sbagliato lì a quell'incrocio lì, no? Dovevo mettere la freccia. No, perché io sono... No, tu eri in precedenza, tu non giravi. Hai sbagliato qui. Eh sì. Allora, arrivo con la moto. Guardami. Tu hai messo la freccia di là. Però con la moto ti sei messa qua. Io devo andare là? Metto la freccia? Mi porto qui però. Guarda. Mi porto qui però è un bel 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 Grazie.